Novella d'estate, Zweig. L'estate scorsa passai il mese d'agosto a Cadenabbia, uno di quei piccoli e graziosi luoghi di villaggiatura sul lago di Como, nascosti da bianche ville e fitti boschi. Silenziosa e tranquilla persino nei più frequentati giorni di primavera, quando i turisti di Bellagio e Minaggio si riversano come uno sciame d'api sulla sottile striscia di spiaggia, in quelle calde settimane d'agosto la cittadina era un luogo solitario, profumato e caldo di sole. Nell'albergo non erano quasi più ospiti, ne restavano ancora un paio, accumunati dal fatto di aver scelto un luogo così sperduto per venirvi a villeggiare e ognuno di loro si stupiva al mattino di vedere l'altro ancora lì. Più degli altri mi meravigliava un signore anziano molto distinto e colto, a giudicare dalle apparenze una via di mezzo fra un corretto statista inglese e un coureur parigino, il quale senza nemmeno trovare scampo in qualsiasi sport acquatico, passava le giornate in assorta contemplazione delle volute di fumo della sua sigaretta e si perdevano nell'aria o sfogliando di tanto in tanto qualche libro. L'opprimente solitudine di due giornate di pioggia e la sua aperta affabilità conferirono alla nostra superficiale conoscenza una cordialità tale da farci dimenticare quasi del tutto la differenza di età che c'era fra di noi. Nativo della Livonia, egli era stato allevato in Francia e più tardi in Inghilterra. Senza una professione da sempre e senza dimora stabile da anni, egli era un senza patria, inteso nel nobile senso di coloro che, vichinghi e pirati della bellezza, hanno richiuso in sé, in una sorta di volo rapace, la preziosità di tutte le città. Da dilettante si era avvicinato a tutte le manifestazioni dell'arte, ma più che per amore, è spento piuttosto dalla nobile aspirazione di servire ad essa. All'arte egli doveva un'infinità di ore piacevolissime, pur senza aver dedicato ad essa una sola ora di travaglio creativo. Suo era un genere di vita che poteva apparire superfluo perché evitava ogni comunanza e perché tutta la ricchezza che in essa hanno riversato migliaia di singoli avvenimenti impagabili, viene dispersa con l'esalazione dell'ultimo respiro, senza che nessuno la possa raccogliere. Di tutto questo si parlava una sera, mentre finito di pranzare, sedevamo davanti all'albergo a contemplare il chiarore del lago che lentamente si andava oscurando al nostro sguardo. Egli sorrise, forse non ha torto, io infatti non credo nei ricordi. Ciò che abbiamo vissuto, lo abbiamo vissuto in quell'attimo e poi ci abbandona. E la poesia? Non viene forse dimenticata venti, cinquanta, cento anni più tardi? Ma oggi le voglio raccontare qualcosa che, secondo me, potrebbe essere una graziosa novella. Venga, queste cose si raccontano meglio passeggiando. Ci incamminammo verso la meravigliosa passeggiata lungo il lago, sulla quale si allungano le ombre degli eterni cipressi e degli intricati ipocastani. Attraverso i loro rami lo specchio del lago luccicava, inquieto. Dall'altra parte si poteva scorgere bellagio, simile a una bianca nuvola, alla quale i colori appassiti del sole ormai tramontato davano una sfumatura morbida, mentre in alto, sopra la collina, illuminata dai raggi adamantini, splendeva la corona di muro che cingeva Villa Cerbelloni. Il caldo era un po' affoso, ma non opprimente. Come un morbido braccio di donna, si appoggiava delicatamente alle ombre e riempiva il respiro con il profumo di invisibili fiori. Egli cominciò a raccontare. Devo iniziare con una confessione. Finora non le ho mai detto, d'essere già stato qui l'anno passato, proprio qui a Cadenabbia, nello stesso periodo e nel medesimo albergo. Ciò può meravigliarla, tanto più che le ho raccontato come abbia sempre evitato di ripetere qualcosa nella mia vita. Ma ascolti. Naturalmente il luogo era solitario come adesso. C'era lo stesso signore di Milano. Ti passa le sue giornate a pescare dei pesci che alla sera rimette in libertà, per ripescarli poi al mattino seguente. C'erano inoltre due anziane signore inglesi, la cui esistenza un po' vegetativa passava del tutto inosservata. E' un simpatico giovanotto, assieme a una cara e pallida ragazza, che ancora oggi non credo fosse sua moglie, perché mostravano di volersi troppo bene. E infine c'era una famiglia tedesca, il vero tipo dei tedeschi del nord. Una signora anziana di un biondo slavato, angolosa dai movimenti duri e sgraziati, con due penetranti occhi grigio acciaio e una bocca affilata e severa, che sembrava incisa con un coltello. E con lei la sorella, che non c'era da sbagliarsi, perché aveva gli stessi tratti, solo più sciolti, meno duri, in certo quel modo ammorbiditi. Stavano sempre insieme, senza parlare, chine su di un ricamo nel quale sembravano intessere tutta la loro mancanza di interiorità, parche inesorabili in un mondo limitato fatto di noia. È in mezzo a loro una giovane ragazza di circa 16 anni, figlia di una delle due signore, non so esattamente di quale, perché la dura immaturità dei suoi tratti cominciava già a mescolarsi a una leggera, femminile pienezza. Era tutt'altro che bella, troppo magra e acerba. Oltre a ciò vestiva naturalmente senza gusto, eppure c'era qualcosa di toccante in quella sua passionalità sperduta. Gli occhi erano grandi e scuri, ma passavano sempre oltre, imbarazzati, disperdendo il loro bagliore in uno strizzardocchi. Pure lei veniva sempre con un lavoro, ma spesso le sue mani diventavano lente, le dita sembravano addormentarsi, e allora sedeva silenziosa, lo sguardo trassognato e immobile, perduto oltre il lago. Non so cosa mi colpi tanto di lei. Era il banale, ma inevitabile pensiero che ci colpisce quando osserviamo la madre ormai sfiorita, accanto alla figlia che sta appena sbocciando, vale a dire l'ombra dietro alla figura, il pensiero che su ogni guancia si hanno inagguato le rughe, dietro ad ogni sorriso si cieli la stanchezza, e dietro ad ogni sogno è già in attesa la delusione. Oppure era questa passionalità selvaggia, prorrompente e incontenibile, che si manifestava in lei tutta, quell'unico meraviglioso minuto della vita di una ragazza, nel quale ella comincia a rivolgere il suo sguardo cupido un po' dovunque, perché non ha ancora ciò a cui si aggrapperà e da cui penderà pigramente, come un'alga da un pezzo di legno chi galleggia sull'acqua. Trovavo estremamente avvincente star lì ad osservare quello sguardo trassognato e umido, il modo selvaggio quasi esaltato con cui accarezzava ogni cane e ogni gatto, quella continua irrequietezza che la spingeva a incominciare cento cose senza mai portarle a termine, e poi l'ansia febbrile con cui la sera sfogliava ai pochi miseri volumi della biblioteca dell'albergo o i due libri di poesie consumati dalla lettura che aveva portati con sé, il suo Goethe e il suo Baumbach. Ma perché sorride? Dovetti giustificarmi, è solo per questo accostamento di Goethe con Baumbach. Ah, per questo? Certo è comico, e anche no, mi creda. Alle giovani di questa età è del tutto indifferente leggere poesie buone o cattive, poesie vere o poesie false. I versi sono per loro soltanto dei calici per la sete, e non stanno a badare alla qualità del vino perché l'ebbrezza è in loro prima ancora che ne abbiano bevuto. Lo stesso era per questa ragazza, piena di una passionalità così traboccante che le brillava persino negli occhi. Le faceva tremare la punta delle dita sulla tavola e conferiva alla sua andatura un che di goffo e di scattante insieme, qualcosa a metà tra la fuga e la paura. Si vedeva che moriva dalla voglia di parlare con qualcuno, di riversare un po' della piena che c'era in lei. Ma qui non c'era nessuno, c'era soltanto solitudine, soltanto il tichettio degli aghi a destra e a sinistra, e gli sguardi freddi circospetti delle due signore. Sentivo una pietà immensa per quella ragazza, eppure non potevo avvicinarmi a lei, perché innanzitutto cos'è un uomo attempato per una giovane ragazza in un simile momento? E poi la mia repulsione a fare amicizia con una famiglia e soprattutto con due anzianotte dame della borghesia soffocava ogni possibilità. E così ebbi una trovata piuttosto strana. Pensai, questa è una ragazza giovane, ingenua, in asperta, certo per la prima volta in Italia, un paese che in Germania, grazie all'inglese Shakespeare, che non vi è mai stato, è considerato il paese dell'amore romantico, dei romei, delle avventure segrete, dei ventagli lasciati cadere, delle scintillanti lame di pugnale, delle maschere e delle dolci lettere d'amore. Sicuramente è la sogna di avventure, e chi può mai conoscere i sogni delle ragazze. Queste bianche nuvole che si agitano nel cielo, ondeggiando nell'azzurro senza una meta, e proprio come le nubi, alla sera si accendono dei colori più caldi, prima di rosa e poi di rosso fuoco. Qui niente le sembrerà inverosimile. Così decisi di inventare per lei un misterioso amante. Quella sera stessa le scrissi una lunga lettera, piena di umile e rispettosa tenerezza, delle più strane allusioni e senza firma. Una lettera che nulla chiedeva e nulla prometteva. Esaltata e riservata allo stesso tempo, insomma, una romantica lettera d'amore che sembrava tolta da un libro di poesie. E poiché sapevo che ella, spinta dalla sua irrequietezza, era ogni giorno la prima a scendere per la colazione, piegai la lettera e la nascosi nel suo tovagliolo. La mattina arrivò. Io l'osservavo nel giardino, vidi la sua sorpresa incredula, il suo sussulto spaventato, il rossore che le salì alle guance per scendere poi fino alla gola. La vidi guardarsi intorno, scomenta e tremante. Notai i movimenti furtivi con cui nascosi la lettera e poi come rimase a sedere, inquieta e nervosa, senza neanche toccare la colazione. Infine la vidi alzarsi di scatto e incamminarsi verso i viali ombrosi e solitari, nel tentativo di decifrare quella lettera misteriosa. Voleva dire qualcosa. Involontariamente avevo fatto un gesto che ora dovevo giustificare. Trovo tutto questo molto audace. Non ha pensato che la ragazza avrebbe potuto indagare, oppure più semplicemente chiedere al cameriere come mai quella lettera fosse finita nel suo tovagliolo, o mostrarla addirittura a sua madre? Naturalmente ci avevo pensato. Ma se lei avesse visto quella ragazza, quella cara creatura timida e spaurita, che si guardava sempre intorno, timorosa, se appena le capitava di parlare a voce più alta del solito, allora ogni preoccupazione sarebbe svanita anche per lei. Esistono ragazze il cui pudore è talmente grande che lei può osare con loro le cose più azzardate perché sono così sperdute da sopportare più volentieri il peggio piuttosto che confidarsi con qualcuno. Sorridendo la seguì con lo sguardo, rallegrandomi che il gioco mi fosse riuscito così bene. D'un tratto la vi di tornare indietro e in quell'attimo sentì il sangue pulsarmi alle tempie. Questa era un'altra ragazza, un altro incedere. Ella avanzava inquieta e turbata. Una luce nuova rischierava il suo viso e un dolce imbarazzo sembrava irrigidirle le membra. E così per tutto il giorno. Il suo sguardo saliva verso ogni finestra come se lì potesse trovare la risposta a quel mistero. Si posava su ogni passante e una volta cadde anche su di me. Cercai di evitarlo nel timore di tradirmi con un batter di ciglia. Ma in quell'attimo più breve di un lampo avevo sentito l'ansia bruciante della domanda e quasi sussultai di paura. A distanza di anni sentivo nuovamente che nessun piacere più pericoloso, più affascinante e perverso che far brillare quella prima scintilla negli occhi di una ragazza. La vidi poi sedere fra le due il signore, ma le sue dita sembravano addormentate. Osservai come di tanto in tanto si portasse la mano al vestito, da dove ero certo che aveva nascosto la lettera. Ora il gioco mi affascinava. E alla sera le scrissi un'altra lettera. E così nei giorni seguenti. Provavo un fascino tutto particolare ed eccitante nel personificare in quelle lettere i sentimenti di un giovane innamorato, nell'immaginare il crescendo di una passione che invece era soltanto inventata. Diventò una specie di sport avvincente, quale lo vorrebbero i cacciatori quando approntano i laci o attirano la selvaggina davanti alla canna del loro fucile. Talmente indescrivibile, quasi pauroso mi sembrava questo successo personale e pensai di interrompere tutto. E lo avrei fatto, se solo la tentazione non mi avesse tenuto così ardentemente incatenato a quel gioco appena iniziato. L'andatura della ragazza andò acquistando leggerezza. I suoi movimenti si fecero confusi come in un ballo. Una bellezza febbrile si sprigionò improvvisamente da quei tratti. Il suo sonno doveva essere un'attesa spasmodica per la lettera dell'indomani perché al mattino i suoi occhi erano cerchiati di ombre, inquieti nell'ardore del loro fuoco. Ella rese ad aver più cura di se stessa. Talvolta metteva dei fiori nei capelli e una straordinaria tenerezza verso tutte le cose. Sembrava placare l'agitazione delle sue mani. In quello sguardo si poteva leggere una continua domanda perché dalle cento piccole cose che io le svelavo nelle mie lettere, ella aveva ormai compreso che colui che le scriveva doveva trovarsi lì vicino. Un anello che riempiva l'aria di musica, ondeggiandole intorno, spiando i suoi gesti più segreti e tuttavia, per voler suo, invisibile. Era diventata così serena che persino alle due ottuse signore non sfuggì questo cambiamento. Talvolta infatti fissavano il loro sguardo benevolo e curioso su quella figura irrequieta e su quelle guance ilari, scambiandosi poi un sorrisetto furtivo. La sua voce aveva acquistato un timbro nuovo. Si era fatta più chiara, più forte, più audace, quasi, e spesso la sua gola tremava improvvisamente. Sembrava gonfiarsi come per far uscire un canto fatto di trilli gioiosi, come fosse... Ma lei sorride di nuovo. No, no, la prego, continui pure il suo racconto. Volevo solo dire che lei sa raccontare molto bene, che ha, mi perdoni, del talento. Sono certo che lei saprebbe raccontare altrettanto bene come uno dei nostri novellieri. In tal modo lei mi vuole far presente, con molta gentilezza e tatto, che io racconto nello stile dei vostri novellieri tedeschi, vale a dire in uno stile ampolloso, lirico, ampio, sentimentale, noioso. Sì, ha ragione. Ora sarò più breve. La marionetta ballava e io ne tiravo i fili con mano accorta, per allontanare da me qualsiasi sospetto, poiché talvolta sentivo il suo sguardo cercare il mio per scrutarlo, e avevo fatto venire il sospetto che l'autore delle lettere non abitasse qui, bensì in uno dei vicini alberghi di cura, e che ogni giorno venisse a Cadenabbia con una barca o con un battello. E ora, quando la campana del vaporetto suonava per annunciare l'attracco, con un pretesto qualsiasi la vedevo sfuggire alla sorveglianza materna, la vedevo correre via a precipizio, e da un angolo dell'imbarcadero passare in rassegna, col fiato sospeso, uno ad uno, tutti i passeggeri che arrivavano. Finché un giorno, era un pomeriggio nuvoloso e Dio non avevo niente di meglio da fare che stare ad osservarla, successe qualcosa di straordinario. Fra i passeggeri c'era un giovane molto bello, vestito con quell'eleganza un po' stravagante, tipica dei giovani italiani, e come egli si guardò intorno, forse per cercare qualcuno, incontrò col suo lo sguardo della ragazza, che disperatamente cercava, chiedeva, fissava, e subito un'onda di vergogna le salì al viso, spegnendo il lieve sorriso. Il giovane rimase sorpreso, si fece più attento, cosa del resto più che comprensibile, quando si sente addosso uno sguardo così caldo, pieno di cento cose non dette. Le sorrise fece cenno di volerla seguire. Ella fuggì, si soffermò un attimo nella certezza che egli fosse colui che tanto a lungo aveva cercato. Riprese a correre, pur sbirciando di tanto in tanto dietro a sé. Era l'eterno gioco che vede il conflitto fra volere e paura, fra passione e vergogna, nel quale, però, la dolce debolezza è ancora sempre la più forte. Visibilmente incoraggiato, per quanto sorpreso, egli affrettò il passo a sua volta, e stava già per raggiungerla. Con terrore mi accorsi come tutto stesse per precipitare in un pauroso caos. Quando ecco apparire le due signore, che avanzavano lentamente lungo la passeggiata. La ragazza corse loro incontro come un uccellino spaurito. Il giovane si ritrasse prudentemente, ma nel volgersi i loro sguardi si incontrarono ancora una volta, per tuffarsi i febbrili l'uno nell'altro. Questo avvenimento mi ammonì, sulle prime, a porre fine al mio gioco, ma la tentazione era troppo forte. Sicché decisi di servirmi, di questo caso fortuito, come di un facile aiuto, e alla sera le scrissi una lettera insolitamente lunga, che avrebbe dovuto confermare le sue supposizioni. Mi affascinava ora l'idea di agire con due personaggi. Al mattino seguente rimasi spaventato dall'espressione tremante e smarrita dei suoi tratti. La sua affascinante inquietudine aveva lasciato il posto a un nervosismo che mi riusciva incomprensibile. I suoi occhi erano umidi, arrossati, come se avesse pianto. Un dolore senza fine sembrava sconvolgerla. Il suo silenzio mi sembra sul punto di tramutarsi in un grido selvaggio. Un'ombra cupale oscurava la fronte. Nei suoi occhi c'era una disperazione triste e amara, proprio quando mi ero aspettato di scorgere una luminosa felicità nel suo viso. Cominciai a sentirmi inquieto. Per la prima volta qualcosa di estraneo si inseriva nel mio gioco. La marionetta non obbediva più e si muoveva diversamente da come io volevo. Presi a lambiccarmi il cervello per scoprirne la causa, ma senza trovarne alcuna. Cominciai ad avere paura del mio gioco. Tornai all'albergo che era sera fatta per sfuggire a quello sguardo accusatore. Ma quando entrai compresi tutto. La tavola non era più apparecchiata. La famiglia era partita. Ella aveva dovuto andarsene senza potergli dire una sola parola, ne poteva confessare alle due donne quanto il suo cuore fosse ancora attaccato ad un solo giorno, a una sola ora. Era stata trascinata via da un dolce sogno per ritornare in una qualsiasi piccola miserabile cittadina. Di questo mi ero completamente dimenticato e ancora oggi sento quello sguardo su di me come un'accusa. Risento quella forza terribile fatta di rabbia, di tormento, di disperazione, del più amaro dolore che io, chissà fino a quando, avevo catapultato nella sua vita. E gli tacque. La notte aveva camminato con noi e la luna, velata di nubi, lasciava cadere uno strano chiarore scintillante. Fra gli alberi sembravano appese scintille e stelle e in mezzo a loro si poteva scorgere la pallida superficie del lago. Finalmente il mio accompagnatore ruppe il silenzio. Ecco, questa è la storia. Non potrebbe essere una novella? Non lo so. In tutti i casi si tratta di una storia che voglio tenere a mente, con le altre, e per la quale dovrei essere riconoscente. Ha una novella. Direi piuttosto un bel surrogato, che potrebbe forse affascinarmi. Perché alla fine questi personaggi che si sfiorano soltanto, senza mai dominarsi completamente, sono solo i primi passi verso un destino. Ma non un destino. Bisognerebbe inventare una fine. Capisco quello che intende. La vita della ragazza, il ritorno nella piccola città di provincia, la spaventosa tragedia della vita di tutti i giorni. No, non tanto questo. La ragazza non mi interessa più oltre. Le ragazze giovani sono sempre poco interessanti, per quanto importanti esse immaginano di essere. Perché tutto ciò che fa parte della loro vita vissuta ha soltanto un aspetto negativo e quindi troppo simile. La ragazza, in questo senso, si sposa quando è il momento con un bravo piccolo borghese della sua città e questa avventura resta la pagina più bella dei suoi ricordi. La ragazza non mi interessa proprio più oltre. Ciò è ben strano. Non so proprio cosa ci trova allora in quel giovanotto. Sguardi simili a quello, il fuoco che si accende per un attimo colpisce tutti nella giovinezza. La maggior parte non se ne accorge nemmeno. Gli altri lo scordano molto presto. Bisogna diventare vecchi per sapere che proprio questo è forse la cosa più nobile e profonda che si possa provare, il più sacro privilegio della giovinezza. Ma non è neanche il giovane che mi interessa. E allora? Io cercai di plasmare il signore anziano, l'autore delle lettere, e di inventargli una fine. Io penso che non ci sia un'età in cui si possano scrivere impunemente delle lettere appassionate e in cui si possa pensare di penetrare nelle sensazioni di un amore. Io cercherei perciò di dimostrare come il gioco si tramuti in una cosa seria, come egli creda di dominare il gioco, mentre in realtà è il gioco a dominare lui. La bellezza fiorente della ragazza, che egli finge di osservare solo come spettatore, lo affascina, turbandolo profondamente. E l'attimo in cui, d'improvviso, tutto gli sfugge dalle mani, fa nascere in lui una passione selvaggia per il gioco e la sua posta. Mi affascinerebbe quel ritorno all'amore, nel quale la passione di un uomo anziano diventa molto simile a quella bambina, perché entrambi non si sentono del tutto adatti ad essa. Io mi soffermerei sull'apprensione di questo signore anziano, sulla sua aspettativa. Lo farai diventare inquieto, farei sì che si mettesse in viaggio per seguirla, per vederla, pur non osando all'ultimo momento avvicinarsi a lei. Lo farei ritornare nello stesso luogo, nella speranza di rivederla, implorando il caso che poi si rivela sempre crudele. Su questa traccia io immaginerai la novella, che allora sarebbe bugiarda, falsa, impossibile. Sussultai. La voce che aveva interrotto le mie parole era una voce dura, rauca, tremante, quasi minacciosa. Mai avevo notato una simile agitazione nel mio compagno. In un lampo cercai di capire quale tasto sbagliato avessi toccato, senza vedermene. In quel momento egli si fermò bruscamente, e allora con un senso di piena scorsi il bagliore dei suoi capelli candidi. Per un attimo fui sul punto di allontanarmi rapidamente in un'altra direzione, ma in quel momento egli riprese a parlare, questa volta in tono calmo e gentile, con la sua voce riposante e profonda, velata di una lieve malinconia. Forse ha ragione lei. Senza dubbio sarebbe molto più interessante. L'amour corcuté Cherou Villard. Così Balzac, se non sbaglio, ha intitolato uno dei suoi più toccanti racconti, e molti altri con questo titolo si potrebbero ancora scrivere. Ma i vecchi, che di tutto ciò conoscono la parte più intima e segreta, raccontano volentieri soltanto i loro successi, non le loro debolezze. Hanno il timore di apparire ridicoli in cose che tuttavia non sono altro, se non l'oscillare del pendolo dell'eternità. Lei pensa veramente che fosse un caso che sia andato perduto proprio quel capitolo delle memorie di Casanova in cui egli sta ormai invecchiando e dove il gallo si trasforma in un becco e l'ingannatore diventa l'ingannato. Forse la sua mano è diventata troppo pesante e il suo cuore troppo angustiato. Egli mi porse la mano. Ora la sua voce era nuovamente fredda, calma e controllata. Buonanotte. Vedo che è pericoloso raccontare delle storie ai giovani durante le notti d'estate. È facile che questo susciti in loro pensieri sbagliati e ogni genere di sogni inutili. Buonanotte. E si allontanò nell'oscurità con il suo passo elastico, reso un po' lento dagli anni. Si era fatto tardi, ma la stanchezza che di solito, nella calura delle dolci notti, mi coglieva ben prima, se n'era andata adesso per quell'eccitazione che fa pulsare il sangue nelle vene quando ci accade qualcosa di insolito o quando, per un attimo, viviamo un fatto estraneo come se fosse nostro. Così mi avviai lungo il sentiero silenzioso e buio verso Villa Carlotta, dalla quale una scalinata di marmo si tuffa nel lago e sedetti sui freddi gradini. La notte era meravigliosa. Le luci di Bellagio, che prima scintillavano tra gli alberi come tante piccole lucciole, sembravano ora infinitamente lontane sull'acqua e lentamente, l'una dopo l'altra, si spensero nell'oscurità profonda. Il lago si allungava silenzioso, lucido come una gemma nera, mentre lungo le rive si vedeva splendere un confuso bagliore di fuoco. Come bianche mani posate su tasti chiari, le onde salivano e scendevano, sciabordando lungo i gradini con brevi fiotti. Il pallido orizzonte del cielo sembrava infinitamente lontano, con quello scintillio di migliaia e migliaia di stelle. Esse splendevano immobili, in un bagliore silenzioso. Di tanto in tanto una di loro si scioglieva improvvisamente da quella ridda adamantina e precipitava nella notte estiva, dentro all'oscurità, nelle valli, nelle gole, sui monti o sui mari lontani, senza sapere dove sarebbe finita, trascinata da una forza cieca, come una vita nella profondità improvvisa di storie sconosciute. Fine